Come è stata la Commissione? Anche durante la Commissione in maniera ottimale da parte della Regione Veneto e quindi è stata importante prendersi conto anche di quelle che sono le funzioni e funzionalità proprie degli uffici e anche della sistemazione logistica. Ci sono delle azioni molto importanti che riguardano le definizioni dell'ITI con gli operatori telefonici, il cyberbullismo, abbiamo visto l'opera di mediazione che fa il Corecom, l'attività di controllo per quel che riguarda la parcondicio, una serie di funzioni che si sono via via allergate e che nel corso degli anni e con l'evoluzione anche delle società hanno acquisito maggiore importanza. Pensiamo anche a quello che viene svolto in sede di controllo dell'internet, di informazione, dei convegni che in questo periodo per il 2024 il Corecom metterà in programma. Corecom Veneto ha allargato nel corso degli anni la propria attività, l'ha ottimizzata e credo stia dando un grande servizio anche ai cittadini del Veneto. Comunicazione, attività politica ma anche tanta formazione. Il ruolo di Corecom nel combattere il cyberbullismo e nell'affrontare una tematica che sempre di più riguarda le giovani generazioni oggi è diventato sempre più forte. Il tavolo che partirà assieme all'ufficio scolastico regionale in collaborazione con la Polizia Postale è una grande occasione per il 2024 per fare formazione. Formazione ai docenti, formazione agli studenti rispetto ai rischi, alle preoccupazioni, ai problemi che il web e i siti possono portare. È fondamentale questo ruolo perché ci rende tutti più consapevoli e mette nelle condizioni le scuole di poter lavorare accanto ai ragazzi e poterli formare e rendere sempre più appunto consapevoli e dedotti di ciò che sono i rischi e i pericoli che il web porta con sé. Un ruolo dunque di attenzione e di presenza che come Consiglio regionale e come Commissione vogliamo assolutamente sostenere. Il Corecom oggi ha relazionato sulle attività che vorrà fare nel 2024. L'obiettivo principale è quello di consolidare se non ancora migliorare i servizi offerti nel corso del 2023. Vi do solo due esempi per farvi comprendere quanto il Corecom lavora e che tipo di servizi offre. Allora, una delle funzioni maggiormente utilizzate è quella delle conciliazioni e definizione. Vi dico solo che nel triennio 21-23, quindi da quando è insediato questo Corecom, abbiamo lavorato più di 15.000 istanze tra conciliazioni e definizioni e abbiamo restituito ai cittadini veneti più di 3 milioni di euro. Quindi cifre importantissime. Altra funzione fondamentale del Corecom è quella della Parcondicio. L'anno prossimo ci saranno due tornate elettorali fondamentali, europee e amministrative. Andranno al voto più di 309 comuni veneti. Vi do un dato anche su questo. L'anno scorso, che ci sono stati appuntamenti elettorali ma minori di quest'anno, abbiamo monitorato più di 5.000 ore dell'emittenza televisiva locale del Veneto e direi 3. Questi sono i numeri del Corecom e penso che già dando solo questi numeri si dia conto di quello che è il lavoro di questo Comitato regionale delle comunicazioni. Grazie.